Musica La prima e l'inversata è Elena Durnen Musica Musica Continuando Musica 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 E dal candore bianco passiamo alla bifatria audace, Erosso. Prima che vedete è Roberto Frazzini. Grazie. Scusate ma io sarei innamorata di questo staff. Vuoi fare un saluto pronto? Mi voglio suonare perché siete stati in questo momento e non io. Speriamo che vi siete anche in altozza dei vostri disceri. Grazie a lei, a lei, a lei e alla orientazione. Ma io volevo portare in questo momento per fare una grandissima pausa. Bene, bene. Bene, bene. Buona sua benedizione, buona grazia. Rende tutto bello e meraviglioso. Adesso niente. Niente. Un po' di spazio, dai. Adesso lo seguiamo. Mettetevi all'opera e ci mostrate le vostre relazioni. Giusto bene che loro non so quante acconciature fanno il libro, hanno un record. Noi andiamo al fitness, quello con Gianni Scocchi e a fare il suo record di chi acconcia più velocemente. Ma adesso io, che sono un po' di pratica, vorrei sapere il parere del pubblico. Perché questo pubblico sia un audio che non dice mai niente. Quindi sentiamo un parere del pubblico. Chiediamo a questa bimba che è molto bella, prossimamente sfiderà di lei. Toretta, tornati a lei, sfiderà. Allora, timi un po', questa prossima sfida, ti è venuta. È stato il tuo amico preferito. Grazie. Grazie. Mi scopo dall'altra parte. Passi in mezzo ai fotografi che veramente meritano un grande ringraziamento sempre presenti a questi massimi eventi. E adesso a queste ragazze qua. Ragazze, signore. Ho imponato un video da... Allora, innanzitutto vorrei che guardate i due nostri banchieri. L'Urmania stanno facendo una cosa incredibile qua, davanti a tutti, senza timori. Ma un applauso anche a loro, perché loro hanno fatto l'acconciatura a tutte le ragazze. E anche per il loro charm, il loro stessore. Spessore nel senso sflaghi. No, e io ho la maglia della stilista e mi ha... Guardate, non quelli con la giudizia azzurra, bianca. Fate un applauso a questi ragazzi, ragazzi. È... L'Urmania è veramente una garanzia. È uno... non lo so... Non è da segno. Allora, noi con la stilata abbiamo finito. Io voglio la Deborah, che non la vedo più. Non la vedo più. Non la vedo più. Non c'è più Deborah. Un applauso alle ragazze, alla stilista. Un applauso alle ragazze, alle ragazze, alle ragazze. Dove... Ciao. Un applauso alle ragazze, alle ragazze dove canano sun tol quartz. No. No. Grazie a tutti.